Il Piazzano che vive il momento più buio della propria stagione, altrimenti costellata da innumerevoli soddisfazioni, è chiamato a rialzare la testa nello scontro diretto con un'altra matricola terribile del girone B di promozione, il Real Treciminiere, che ha percorso un cammino analogo a quello dei biancorossi del presidente Gian Giordano. Entrambe le squadre sono a un tiro di schioppo dalla zona playoff, obiettivo forse inimmaginabile all'inizio stagione, ma diventato concreta realtà per le due compagini che si trovano in ballo e vogliono entrare di prepotenza al banchetto delle grandi. I rosso-verdi di mister Di Marzio sono ad una lunghezza dall'obiettivo, tre sono invece i punti di ritardo dei Sangrini rispetto al Bucchianico, quinta forza del raggruppamento. La gara stenta a decollare e bisogna aspettare il ventunesimo per assistere al primo affondo verso una delle due porte. Nel caso specifico si tratta di quella difesa dall'Atriano Merletti, che assiste con apprensione alla rovesciata in area di Skoshek, anche se la sfera non transita nello specchio della porta. Alle sollie della mezz'ora i ragazzi di mister Padorecchi invocano il tiro dal dischetto in seguito al tocco di mani in area di Forcellese, che intercetta la conclusione ravvicinata di Abbonizio, ma il signor Giorgetti Di Vasto non interviene, ritenendo probabilmente involontario il tocco del difensore ospite. Il buon avvio della squadra di casa si conferma poco dopo con l'affondo di Pierri, che impegna l'estremo avversario nel primo intervento effettivo della contesa. La squadra di mister Di Marzio è pericolosa al 34esimo, su un piazzato teoricamente innocuo di Clementoni, che invece mette in difficoltà Di Tollo, il quale intercetta la conclusione con qualche affanno di troppo. Il primo punto di svolta della gara si verifica al 36esimo e stavolta il fischietto aragonese concede il penalti alla squadra di casa, in seguito al tocco di mani di Di Felice, ma dopo aver consultato il suo assistente di linea. E' Capitan Carunchio ad incaricarsi della battuta con Merletti che intuisce la traiettoria, ma non può evitare la capitolazione all'incrocio dei pali. Alla ripresa dei giochi, mister Di Marzio e un componente della sua panchina vengono allontanati per proteste, ma i suoi ragazzi tornano in campo con diverso atteggiamento e mettono in crisi la retroguardia biancorossa, che va in affanno al dodicesimo sullo stacco in area di Tranquilli, che intercetta uno spiovente dalla sinistra, ma spedisce di pochissimo a fil di palo. Il numero 8 del Real Trecceminiere si ripete con una temibile girata dal vertice d'area piccola, ridotta a più miti pretese dalla chiusura sul primo palo di Di Tollo. Il piazzano indietreggia vistosamente il proprio baricentro e ne subisce le conseguenze allo scoccare della mezz'ora, allorquando il Real agguanta il pareggio con sorgentone, abile a scardinare il pallone dai piedi di Carunchio e a scraventarlo nell'angolino alla destra di Di Tollo. Per il piazzano è l'inizio della disfatta, che si accentua ulteriormente dopo il cartellino rosso rimediato da Lusi, costretto ad abbandonare il proscenio dopo il brutto fallo ai danni dello stesso sorgentone. Provedimento disciplinare inevitabile per il signor Giorgetti, con il piazzano costretto a stringere i denti e a giocare gli ultimi minuti della gara in inferiorità numerica. L'acuto di Fonseca è illusorio, visto che il crollo verticale della squadra di casa avverrà nelle fasi che precedono i titoli di coda. Al 43esimo sorgentone va al bispersonale e permette ai suoi di operare il sorpasso con un tocco ravvicinato che va a raccogliere la corta respinta di Di Tollo, impegnato a sua volta dal siluro dalla distanza di Assogna. La disfatta piazzanese si accentua ulteriormente al minuto 45, quando il neo entrato rincione affossa definitivamente le residue speranze della squadra di casa, approfittando dell'uscita dai pali di Di Tollo, castigato con una conclusione dal vertice d'area che certifica la terza sconfitta consecutiva del piazzano. Se non è crisi, poco ci manca. Per i ragazzi del presidente di Febbo il sogno playoff non è più una chimera, ma concreta realtà. Mister Di Marzio, vittoria schiacciante in uno scontro diretto qui a Montemarconi. Si aspettava di ottenere questi tre punti? Alla vigilia sapevamo che era un impegno difficile, importante. Il piazzano è un'ottima squadra, lo ha dimostrato anche sul campo. È stato un primo tempo in cui loro probabilmente hanno spinto tanto, nel secondo hanno accusato un po' forse anche il ritorno nostro. Abbiamo fatto, credo, alla fine una gara giusta. Siamo riusciti a trovare, forse probabilmente con qualche errore loro di troppo, il gol del pare. Dopo di lì ci siamo sciolti un attimino e siamo riusciti a trovare altri due gol che penso anche alla fine, come posso dire, determina anche un po' un risultato giusto perché alla fine noi abbiamo cercato di stare in gara sempre, anche quando eravamo sotto, non ci siamo disuniti. Ripeto, a cospetto di una squadra ben messa in campo, organizzata, si vedeva che avevano dei valori. Noi siamo stati bravi probabilmente a sfruttare qualche loro errore, non ci abbiamo fatto. Mister, la vostra squadra sta rispettando ampiamente le previsioni della vigilia, forse anche di più di quello che vi eravate stabiliti. Ma diciamo che noi, sì, probabilmente, noi siamo una neopromossa, probabilmente in questo momento ci riesce anche qualche cosa, riusciamo a raccogliere anche qualche frutto che probabilmente al giro di andata abbiamo lasciato per strada. Il nostro doveva essere, voleva essere un campionato anzitutto per conoscere la categoria nuova, per vedere un po' le squadre, quindi penso che stiamo facendo il nostro. È ovvio che si potrebbe fare sempre di più, credo che però i ragazzi veramente stanno mettendo in ogni allenamento, tutte le gare, tutto quello che hanno, la società è presente, viviamo, ripeto, un buon momento, cerchiamo di continuare così e di vedere che cosa riusciamo a fare, a fare, a fare, a fare di buono. Cerchiamo di portare la domenica in giro quelli che sono un po' i nostri valori, cerchiamo di portare un calcio per quello che ci è possibile pulito, fatto di calcio e niente. Dopo per il resto vedremo un po' il campo, che cosa sapremo guadagnarci. Ecco, parlando di squadre, secondo il suo giudizio, quali sono le favorite alla vittoria finale? Ma, adesso non sono i risultati di oggi, ma credo che sicuramente la Val di Sangro, Ortona, la Flacco Pescara, credo che siano un po' queste le squadre che alla fine si lotteranno per giocarsi il campionato fino alla fine. Noi, ripeto, da parte nostra, queste le abbiamo incontrate, queste squadre, effettivamente ci hanno organici un po' sopra la media. Davide Cirigliano, terza sconfitta consecutiva per il Piazzano, tra l'altro in rimonta. Cosa è che non ha funzionato? Ma, come capita spesso nel calcio, è un momento che non vanno bene le cose, giochiamo un calcio magari non buono, e abbiamo avuto, nelle scorse domeniche, qualche assenza in più. Oggi abbiamo recuperato Pasquini, però comunque era a mezzo servizio, abbiamo diversi giocatori che devono scendere in campo per una questione numerica, ma non possono dare il 100% e i risultati si vedono. Secondo lei come si supera questo momento o no per la squadra? Ma, con la massima calma, allenandosi, ascoltando l'allenatore, i risultati torneranno da sé. E soprattutto ripartendo, la settimana prossima dove andrete? Ma, il calendario noi guardiamo domenica per domenica, quindi non so dove andiamo domenica prossima, però comunque lavoreremo come facciamo tutte le settimane, compatti.